Con Pasquale Russo del team ASD Bicicolano, buongiorno Pasquale, hai detto Gnoccolino, non lo so per quale, ma lo dico? Buongiorno, buongiorno. Ciao, scherzo Pasquale. No, no, figurino, non è una fisica. Anche se non è il caso sulla salita, abbiamo appena iniziato e quindi ce la faccio ancora a parlare. Pasquali, un saluto a tutti i nostri amici che stamattina hanno fatto un... sono in partenza per Roccararo. E vabbè, comunque stavi dicendo che guardando Massimo mi incoraggia. Sarà secondo me. Che mi incoraggia? Chi sono le New York Bull? Chi sono le New York Bull? Chi sono le New York Bull? E vabbè, sempre con Raffaele Ancho, Crescente. E' in senso. Enzo, segui. Sì, già siamo pure da fare la giornata, vado a fare un passo. Sempre sulla salita di Durazzano, da qui a tutti. Un po' dura, diciamo. Allora, sempre con Pasquale Russo, Pasquale, siamo sul tratto di Durazzano il più ripido, il più astro e il più insidioso. Pazzo, mi ha la mitone. E ci fermano tutti. Pazzo, mi ha la mitone. E ci fermano tutti. Che domanda qual è? Chi cazzo mi ha fatto? A parte gli scherzi, no, beh, niente, siamo qua. Stiamo decidendo. Che non mi ha deciso? Se andiamo a me, e una pizza che mangia a Massi, a Madonna tutto, quando... Perché Massi qua è un amicone. Pazzo, è un amicone. E ci fermano tutti. Pazzo, è un amicone. E ci fermano tutti. Pazzo, è un amicone. E ci fermano tutti. Pazzo, è un amicone. Pazzo, è un amicone. Allora, dentro c'è la piscina. Invito tutti gli amici a passare questa giornata. No, no, venite tutti quanti qua, alla piscina. Però prima di buttarvi, vedete se c'è l'acqua. Ma io mi domanda e dico, ma come cazzo si fa a tre una villa a piscina? Ma come, quella è la tua, la villa, non sai neanche a che villa è? Ma come, quella è la tua, la villa, non sai neanche a che villa è? Valla a savurarsi tu. Esatto. E' la vita per ogni anno. Ci hai fatto prima una savita, poi ci ho invitato in piscina. E non mi ricordavo la strada. Non mi ricordavo la strada, eh vabbè. Per mandarla tu, famiglia.